Cari amici telespettatori di Legnano Web TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni e un bentornato presso i nostri studi televisivi di Milano. Quest'oggi abbiamo ospite nel nostro studio l'associazione Wild Dreams e ho il piacere di avere qui al mio fanco Alex Soldatica, il presidente e anche istruttore chiaramente dell'associazione. Benvenuti innanzitutto. Grazie, grazie, grazie a voi di questa ospitalità. Beh, ricordiamo Wild Dreams è un'associazione che giustamente cura l'addestramento dei cani. Sì, si parte da quello che è l'addestramento, quindi comunque una parte di educazione, ciò che crea un binomio con le persone per arrivare a quello che realmente è l'attività sportiva. Quindi i nostri cani e i cani delle persone sono atleti, vengono seguiti in tutto quello che è la preparazione atletica dall'inizio, da quello che è il connubio, il binomio, a quello che poi diventa davvero uno sport a tutti gli effetti. Beh, appunto, la cinofila chiaramente soprattutto negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto. C'è da dire che comunque c'è sempre più consapevolezza da parte dei padroni di quello che è la cura del proprio animale. animale, chiaramente poi l'attività sportiva è stata una conseguenza, ma è che si è sviluppata anche tanto. Esatto, l'attività sportiva cinotecnica è una conseguenza di quello che riguarda anche tutto il benessere dell'animale, perché è uno tra i punti focali di quello che è la nostra attività, perché rispettiamo l'animale, rispettiamo le sue esigenze, rispettiamo a tutto tondo quello che è l'animale nella nostra famiglia e perché non condividere con lui tante belle cose che possono arrivare anche a livello sportivo, quindi non solo momenti di passeggiata intelligente, con costanza, con voglia di vivere il nostro animale e quindi un insieme di famiglia, ma qualche attività in più e un'attività che ha un certo spessore. Beh, ma facendo un attimo quattro numeri, diciamo, voi siete comunque a Rescaldina in provincia di Milano, ma quando è che nascete come associazione? Siamo un'associazione abbastanza giovane a livello anagrafico, nasciamo nel 2018, in realtà lavoriamo in questo ambito da sempre, io e i miei collaboratori siamo proprio nel mondo della cinofilia da tantissimi anni, collaboriamo con tante altre realtà del settore, perché assolutamente nonostante l'agonismo ci sia nelle gare, la cosa più bella è condividere una passione in un ambiente sano, con la voglia di collaborare con tutto che è questo settore, un settore in crescita, un settore di formazione che aumenta sempre di più, a livello numerico, ma a livello soprattutto di passione, che ci sono dei punti cardine, come dicevo prima, sul benessere, sulla voglia di condividere, e quindi le collaborazioni sono davvero tante e ci estendiamo in quello che è tutta Italia. Beh, ma appunto, chiaramente abbiamo parlato di attività sportiva, chiaramente attività anche, insomma, agonistica, vera e propria. Secondo te, chiaramente, l'addestramento del cane, per l'amor di Dio, è importante, ma anche la preparazione del padrone, quanto è importante? Fondamentale, non dico il 90%, ma potrebbe essere anche il 100%, perché da lì poi diventa una conseguenza, chiamiamola la destrabilità, ma in realtà non è la destrabilità, perché quella è una cosa direttamente legata al cane, però quello che è l'educazione, la formazione di un binomio, quindi la consapevolezza di un padrone, un proprietario, una famiglia di portare avanti un determinato lavoro fatto bene, io col lavoro intendo la voglia di condividere, non una cosa in cui c'è il capo e il sottoposto, quindi una cosa gerarica così, ma la voglia di condividere emozioni, sensazioni, momenti piacevoli, fa tutto il resto, quindi diventa tutto a cascata, tutta una discesa. Continuando il nostro approfondimento, abbiamo il piacere di avere Alessio Albanese, che è il vicepresidente e anche gli istruttore appunto dell'associazione Wild Dreams. Beh, insomma, parlando invece di discipline praticate dall'associazione, perché insomma, diciamo, addestramento, gare, insomma, siamo abbastanza stati generici, ma adesso andiamo più nel particolare. Certo, piacere prima di tutto Alessio, come hai detto tu sono istruttore, e mi piacerebbe proprio dirvi di quanto l'associazione spazia in tutte le attività sportive, che rendono veramente, come tirano fuori il pregio di quello che c'è all'interno del binomio che si crea tra il cane e il conduttore. Quali possono essere queste attività sportive? In realtà, dalle cose più semplici alle cose più articolate, ogni cane ha la possibilità, se seguito nel percorso di crescita, di tirar fuori quello che è la sua natura, partendo ovviamente con il gioco, si può arrivare a insegnare al cane, passando da attività sportive, quali la ginniti, che sono appunto salto degli ostacoli, un superamento di un percorso che non fa il cane, ma fa la coppia, fa il binomio, perché il cane da solo potrebbe benissimo valutare di, preferire di giocare con gli altri suoi cospesifici, invece, perché non unire il gioco del cane all'attività sportiva, e quindi portare avanti un percorso di crescita insieme per far divertire il cane, ma allo stesso tempo il proprietario. Quali altri possono essere? Passando dalle attività un po' più di obbedienza, tipo la rally obedience, l'obbedience, l'IGP, sono tutte attività sportive che anche esse fanno della disciplina, dell'obbedienza, il punto cardine, cioè qual è il piacere per il cane? A secondare i desideri del padrone e viceversa. Perché? Perché c'è un buon rapporto tra i due. Di conseguenza non è importante cosa il proprietario chiede al proprio cane, ma l'importante è fare qualcosa di divertente insieme. Quindi, qualsiasi attività sportiva porta al miglioramento del rapporto, sia nel campo, sia a casa, di tutto quello che è il benessere e la gioia di avere un cane a casa. Beh, ma Alessio, adesso una curiosità, perché insomma, diciamo che sentendo te e anche il Presidente, effettivamente si sente che, insomma, non è solo uno sport, ma è una vera passione, vera e propria. Ma quando è che iniziate proprio questa attività, proprio a livello personale parlo? Dal punto di vista personale, io ho iniziato la mia attività, in realtà, proprio quando ho portato a casa il mio primo pazzole tedesco. È stato proprio un amore a prima vista. Mi sono preso il mio bel cane, non sapendo come gestirlo, ho deciso di affidarmi a esperti, che mi hanno spiegato, mi hanno aperto proprio un mondo e mi hanno spiegato che in realtà non c'era un cane che vive in giardino e che ogni tanto ti fa le feste, ma in realtà c'è un vero e proprio rapporto che ti accompagna da quando lo porti a casa a quando passi tutta la giornata con lui. Iniziando questa attività mi sono reso conto che era proprio bello vedere sia in me, sia in chi mi affiancava, chi aveva il cane e insieme a me come proprietario, vedere questo rapporto crescere e vedere la soddisfazione mia e di tutti quelli che mi circondano ha fatto sì che questo diventasse un po' il lavoro, ma la passione che mi porta adesso a poter dire di riuscire a insegnare questo modo di vivere a chi chiede consulenza, a chi si affida. Bene, adesso io ti ringrazio effettivamente perché mi hai trasmesso proprio delle emozioni, si vede proprio nei tuoi occhi effettivamente quello che è il tuo, ma anche l'amore del Presidente effettivamente soprattutto per questi amici che sono effettivamente proprio dei compagni di viaggio. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo ancora una volta l'associazione Wild Dreams di Rescaldina per averci fatto visita e ci vediamo nel proseguo dei programmi di Legnano Web TV. Da Axel Paderni, dagli studi di Milano è tutto, linea alla regia. Grazie a tutti.